Venerdì alle 20.30 e in replica sabato alle 15.00 e alle 23.25 va in onda più a fondo. Questa settimana la trasmissione è dedicata a Primo Sönsberg, l'assessore esterno del comune di Bolzano. L'assessore che nel momento in cui pareva dovesse fare le valigie è diventato più potente, più interessante all'interno della giunta comunale. Venerdì alle 20.30 vedremo il perché.